Eccola qualche anno dopo, brillare nel gatto pardo di Lucchino Visconti. Tra le chicche troviamo perfino una giovanissima Raffaella Pelloni, in arte Raffaella Carrà. Pronto Tina? Sai sono tornata adesso dal centro. Negli anni sarebbe poi diventata la nostra più grande showgirl, attrice ma anche cantante e ballerina. I provini degli inizi di carriera sono un ricordo ma anche un documento prezioso, gelosamente conservato dalla Cineteca Nazionale insieme a decine di migliaia di titoli, tra film e documentari.